Cercherò di non abusare della vostra pazienza, ma fatemi dire che è un piacere immenso essere in un'aula magna del Politecnico di Torino che si chiama Giovanni Agnelli, quindi quando pensiamo ai Contamination Lab, a tutte queste cose, queste belle parole, Open Innovation, Open and Controlled eccetera, ricordiamoci che questa stanza, l'aula magna di un Politecnico di un'università italiana, una delle più grandi università italiane, si chiama Giovanni Agnelli, se non è Contamination questa, se poi tra l'altro lo stesso nome che è il nome del polo, del nostro polo di ingegneria ha quasi lo stesso nome che è Giovanni Alberto Agnelli, è il nome del nostro polo di ingegneria a Pontedera, da cui tante delle cose di cui si è parlato prima come ad esempio Juvo vengono fuori, quindi a volte io ho la sensazione che tante delle cose che sono state discusse oggi vengono risolte grazie all'intervento di persone, di persone illuminate che hanno fatto un po' la storia e continuano grazie al cielo a fare la storia di questo paese. Io voglio nei minuti che ho a disposizione continuare quello che era il senso del mio intervento dell'anno scorso a Roma, portandovi a ragionare su il tema dell'apertura del controllo, una sorta di situazione di chiasmo nella gestione dell'innovazione perché sono due termini che a volte uno può pensare siano un po' in contrapposizione e invece quello che sto cercando un po' di dimostrare io anche con la mia ricerca, con il mio lavoro, sono due termini che devono necessariamente andare in sincrono perché sono di fatto due facce della stessa medaglia. Questa è un po' l'introduzione, l'aperitivo che vi voglio proporre per il vostro networking lunch. Sono partito dalle vostre opinioni perché alcuni di voi hanno avuto la cortesia di rispondere a sei domande che insieme a uno dei miei studenti di postdoc Giulio Ferrigno abbiamo preparato e distribuito ed erano domande che in qualche modo cercavano di andare a intercettare quello che è il vostro punto di vista sull'apertura, sull'innovazione e sulla gestione strategica della proprietà intellettuale. Ringrazio chi ha voluto rispondere a queste domande, come vedete metà delle persone provengono da aziende di servizio manifatturiere, grandi aziende, piccole aziende, università 22%, singoli professionisti, consulenti invece poi contano per un terzo dei rispondenti e mi sembra che questo sia un po' in linea con quello che ragionando con Edgardo è un po' la platea qui con noi oggi. Quindi ringrazio, vi ringrazio, ringrazio ovviamente Jacobacci per avermi dato la possibilità di partire in qualche modo con questo questionario che vedrete cercherò di integrare nella mia presentazione. Open Innovation, non è questa la platea con cui devo spiegare che cosa è e che cosa non è Open Innovation. Io ho spedito dal professor Riccardo Varaldo, con tra l'altro una borsa di studio della fondazione IRI, che qualcuno ha definito l'inutile fondazione IRI, invece io tutto penso tranne che sia stata una fondazione inutile perché mi ha sostenuto i miei anni di dottorato a Berkeley ed è stato un piacere perché ho incontrato questo signore qua proprio nel momento in cui stava coniando il termine Open Innovation e ho avuto la fortuna di essere tra i primi, forse il primo in Italia a parlarne applicandolo a un'azienda di Torino che si chiama, il centro di ricerca di un'azienda di Torino che si chiama Centro di Cerche Fiat. Ho fatto incontrare a Enrico Cesbero Giancarlo Michellone, Giancarlo Michellone il cui inglese è buono però non ottimo, mi dice Alberto traduci, quando Enrico aveva finito la sua presentazione, lei in poche parole ha espresso tutto quello che io in vent'anni di lavoro ho fatto, quindi uno dei complimenti più belli che un ricercatore può ricevere è quello di riuscire ad essere impattante nel descrivere un'attività di lavoro da parte di un manager come Michellone. L'Open Innovation è un'idea, per passare dall'idea ai fatti ci vuole il lavoro di manager degli imprenditori e questo insomma è un po' l'insegnamento dell'Open Innovation. L'Open Innovation è una teoria ma che vive di storie e di realtà, di un vissuto concreto di strategie aziendali. Quindi l'imbuto dell'Open Innovation che è in qualche modo l'ombrello sotto cui all'interno tutte le diverse prassi di Open Innovation vediamo succedano inbound Open Innovation, quindi l'acquisizione di idee che vengono dall'esterno, outbound Open Innovation la valorizzazione di percorsi di innovazione tramite l'accesso a mercati secondari delle tecnologie quindi spin off, licenze esterne, è un'idea e per passare dall'idea alla prassi bisogna in qualche modo arrivare all'implementazione, come sanno bene Iacobacci, come sanno bene anche alcuni dei membri dell'advisory board di Iacobacci che qui non... cioè si potrebbe citare ma è inutile farlo perché sapete di chi sto riferendo. Invece per quanto riguarda i vostri punti di vista che cosa mi dite, che cosa è e cosa non è Open Innovation? Allora ho trovato curioso vedere nel fondo a sinistra di questo grafico, non è Open Innovation favorire una mentalità aperta, non è Open Innovation gestire conoscenza e fare cross fertilization, potrebbe esserlo sviluppare nuovi modelli di business, sviluppare controllo della mia funzione di innovazione, sviluppare servizi di collaborazione, gestire licensing o strategie di piattaforme, si è detto prima, che cos'è Open Innovation per quelli che mi hanno risposto al questionario? È acquisire startup e gestire progetti di crowdsourcing. Ok, diciamo, quindi lasciamo stare gestire conoscenza, cross fertilization favorire una mentalità aperta, Enrica magari ci sono questi signori che siamo Nonaka e Takeushi, ne hanno parlato, hanno sviluppato un po' della loro carriera accademica, non ci interessano, magari ci pensiamo, lo mettiamo lì come un posti per il prossimo anno, caso mai ci venisse in mente, concentriamoci su questa, no, Vox Populi, andiamo di là, acquisire startup e gestire processi di crowdsourcing. Che cosa mi dice questa vostra interpretazione? mi dice, usando le parole di Giorgio Gaber, è che qui siamo tutti consapevoli che la libertà non è starsene sopra un albero, non è starsene sulle nostre cattedre e pontificare, fare professore le nostre pubblicazioni scientifiche, qui abbiamo capito bene che libertà è partecipazione, prendere il nostro spazio libero e rendere, sporcarci le mani, no, nell'attività di trasferimento tecnologico di valorizzazione. Superare quello che io continuo a dire si chiama ego sistema italiano dell'innovazione, o meglio sistema degli ego sistemi italiani dell'innovazione, quindi superare l'ego sistema dell'innovazione vuol dire affrontare le sfide di cui abbiamo parlato benissimo, avete visto dei casi concreti molto forti in cui le startup, le piccole imprese devono interagire con la grande impresa. Questo è un tema estremamente scottante, estremamente difficile, perché la piccola impresa parla un linguaggio diverso. Comau, che cosa ha dovuto fare? Quando avete sentito, Ennio, che parole ha usato? Abbiamo dovuto organizzarci come una startup, una parte di Comau ha dovuto ragionare come una startup. Se la startup va dalla grande impresa e gli dice io ho un'idea fantastica, ti risolve il business, e voi dite noi lo vogliamo comprare, vogliamo comprare l'innovazione. Ok, due diligence, ti rispondo tra sei mesi, tra sei mesi il primo slot di inversimento, poi entra tra i miei fornitori, poi fai questo, poi fai quell'altro, la startup a quel punto lì è andata. Ora, adesso non so con Juvo cosa gli avete fatto passare, poi lo chiedo Nicola, però è evidente che questo è un problema. Sappiamo, sa la grande impresa lavorare con le piccole e medie imprese, con le startup, riesce a strutturarsi, a strutturare i propri meccanismi decisionali per andare incontro alle esigenze di chi vuole essere comprato, vuole vedere amplificato la propria capacità di crescita. Secondo aspetto, crowdsourcing, perfetto, Open Innovation 2.0. Anche qui un tema estremamente caldo, di cosa ci siamo accorti? L'utente, il cliente finale, il talento diffuso al di fuori del rapporto a due, tra innovatore e produttore di innovazione e consumatore, può essere molto più ricco, molto più interessante. L'utente può diventare innovatore, se io riesco a creare quelle piattaforme di innovazione in cui beneficio del contributo dello user, non dell'opinione, no? Seguo l'utente, no? Lo faccio diventare anche esso innovatore. Attenzione, allineamento dei modelli di business. Ok? Quanti soldi fa Google con le vostre informazioni? Tanti. Quanti soldi fate voi con Google? Fino a ieri potevate farne se compravate azioni, oggi è un po' meno, però ne fate molto di meno. Quindi è chiaro l'allineamento del modello di business tra utente, diciamo utente innovatore e la piattaforma di innovazione. Questo è un elemento molto, secondo me, molto centrale, molto importante. Dinamiche settoriali. Vado molto veloce, concentrandomi su questo aspetto qua. Voi mi dite, la cosa più importante, no? Convolgimento di utenti innovatori, attività di trasferimento tecnologico, relazioni con l'università, ne abbiamo sentito parlare, avete sentito anche il lavoro che sta facendo l'ufficio italiano Brevetti e Marchi nel cercare di lavorare insieme a Netval, insieme ad altre istituzioni per favorire le best practice che partono dalle persone, coerenza strategica tra gestione della proprietà intellettuale e gestione dell'innovazione. Ecco, il maestro di Enric Esboro, il mio maestro si chiama Riccardo Varaldo, ma il maestro di Enric Esboro si chiama David Thies. A differenza del prof. Varaldo è diventato ricchissimo, è un miliardario. Mi ha detto una volta, Alberto, il mio problema è che ho troppe navi e non ho tempo per usarle, perché è un neozionandese appassionato di yacht. David ha messo al centro questo problema, l'appropriazione del valore dell'innovazione. Questo è il punto. Il punto chiave è che lui dice appropriation advantage vuol dire che a parità di tecnologia, a parità di modelli di business, un'azienda può essere migliore di un'altra proprio perché è più brava a valorizzare la propria innovazione tramite un meccanismo di appropriazione debita, appropriazione tramite proprietà intellettuale e quant'altro. Quindi David ha messo molto in chiaro che esiste questo terzo layer di battaglia, c'è il layer della tecnologia, il layer del modello di business e c'è il layer della proprietà intellettuale, su cui grandi aziende, piccole aziende si scontrano. Nel corso di una mia pubblicazione su California Management Review abbiamo visto che tramite tutta una serie di casi di studio emergono tre in particolare sfide, sotto sfide a questa sfida. Uno, la capacità di integrare come azienda le tante tecnologie in un contesto in cui invece l'IP è estremamente frammentata, chi lo fa meglio degli altri vince. Due, a parità di portafoglio di brevetti, quello se li tiene in soffitta, quell'altro li apre e riesce a entrare in una maniera aperta ma controllata in relazione con soggetti che possono valorizzare il proprio portafoglio di IP. Tre, la mia organizzazione sa parlare un linguaggio di proprietà intellettuale a 360 gradi. In un momento in cui parte un progetto di ricerca, gli esperti di proprietà intellettuale non sono considerati i rompiscatole che vengono lì a bloccare, no, sono i soggetti che ti identificano uno spazio su cui tu puoi andare e ci sarà un forte ritorno sull'investimento se vai in quella direzione piuttosto che un'altra. Anche qui alcune aziende riescono a farlo meglio dell'altra. Ecco qua tre sfide che anche negli interessanti studi che ho sentito prima alcuni dei miei colleghi vogliono portare avanti, queste secondo me sono sfide molto interessanti, molto particolari. Vado molto veloce qui non abbiamo tempo per affrontare questo grafico, però guardate un attimo degli aspetti che voi mi avete identificato, le vostre istituzioni, le vostre aziende non considerano particolarmente rilevante. Favorire lo scambio di idee, percepire le potenzialità di nuove tecnologie, gestire IP nelle alleanze. Sono temi che a fronte della volontà di acquisire startup e creare nuovi mercati, sono temi fondamentali. Non possiamo acquisire startup e creare nuovi mercati se non sappiamo percepire la potenza di nuove tecnologie e se non sappiamo favorire un ricambio interno di ricerca e di innovazione. Lo sviluppo di strategie di proprietà intellettuale nell'ambito di alleanze è uno degli ambiti più difficili. Sappiamo che gran parte delle alleanze iniziano per poi fallire. Falliscono molto spesso perché non solo non è chiaro di che cosa stiamo parlando, perché io vado a lavorare con un'azienda piuttosto che con un'altra, ma perché non è chiaro chi ha che cosa. Quando metto qualcosa sul tavolo, se la proprietà intellettuale è chiara, prima di partire ai blocchi di partenza, si arriva meglio insieme al nastro di arrivo, perché sappiamo che cosa stiamo sviluppando insieme e chi poi beneficerà dei risultati. Vi ho già parlato di creare le condizioni per un ambiente di open innovation che è sfidante e che permette di portare a casa i risultati. Chiudo con questo. Open innovation non vuol dire fare outsourcing della ricerca e sviluppo. Non vuol dire smettere di fare ricerca. Potete fare tutti gli accordi con le università che volete, potete fare tutta l'acquisizione delle startup che volete, ma se non avete al vostro interno, nella vostra pancia, quella che si chiama absortive capacity, la capacità di assorbire, però alla fine cosa succede? Perle ai porci. Non riuscite a identificare al vostro interno quella capacità che vi permette di comprendere in qualche modo quello di cui avete bisogno, avete davanti. Quindi ecco, questo è un messaggio secondo me molto importante, che in qualche modo fa rivedere il motivo per cui un'azienda deve fare ricerca e sviluppo anche in un contesto di open innovation. Grazie per la vostra attenzione. Grazie. Grazie ad Alberto. Grazie. Grazie.